Prezzi alle stelle di carburanti, luci e gas, mancanza di materie prime, le conseguenze della pandemia ancora da smaltire, un mix di fattori in grado di creare un vero e proprio vortice per famiglie e mondo economico. A soffrire anche le realtà dell'artigianato, che in molti casi devono fare i conti anche con i forti ritardi sui pagamenti della cassa integrazione. A ribadirlo le parti sindacali di CGL, Cisle e Will, che evidenziano quella che ormai dicono è una situazione sempre più insostenibile. La cassa integrazione del mese di novembre e dicembre, che è stata naturalmente utilizzata dalle aziende per il problema del Covid, non è stata ancora erogata. C'è una firma da parte del Ministero che ha dato il via per girare i fondi al fondo bilaterale dell'artigianato FSBA, però manca ancora un passaggio da parte del Governo perché ci sia la definitiva autorizzazione che poi finalmente arrivino i soldi ai lavoratori. Per il 2022, aggiungono i sindacati, la cassa Covid non è stata prorogata, si dovrà fare ricorso a quella ordinaria che prevede al momento 13 settimane da utilizzare entro il 2023. E poi cosa succederà? Si chiedono. L'incubo è che tante piccole realtà del comparto artigianale, inevitabilmente scosse inoltre dalle conseguenze del conflitto in Europa, siano costrette a chiudere. Chiare dunque le sollecitazioni da parte dei sindacati. Che assolutamente si discuta di avere dei pagamenti molto più veloci, se fosse mese su mese sarebbe l'ottimale, che le settimane siano assolutamente molte ma molte di più perché non sappiamo cosa ci sta aspettando in questo momento qua. Turismo, metalmeccanico, tessile sono alcuni dei settori più in sofferenza su questo fronte. A oggi ribadiscono CGL e Cisle Will, in provincia vi sono piccoli artigiani che sono senza stipendio da quattro mesi. Una situazione di incertezza che diventa ancora più pesante considerato il contesto storico attuale. Questo è il problema grosso anche per i lavoratori, per i cittadini che non vedono magari le loro buste paghe con la retribuzione effettiva sul conto corrente, quindi anche il consumo dei cittadini è notevolmente diminuito. Grazie a tutti.